Le percussioni dei Tamtando Emergency ha festeggiato al Giacosa di Aosta i suoi vent'anni di attività. Vediamo. I volontari di Emergency sono come formiche, insetti presenti in tutti i continenti, operosi, sociali e solidali. Con il concerto dal titolo Il silenzio delle formiche si è voluto sottolineare, valorizzare e omaggiare il ventennale lavoro dell'associazione. Ad esibirsi sul palco del teatro Giacosa di Aosta sono stati i Tamtando introdotti ed accompagnati nella loro performance dalla compagnia Replicante Teatro. I Tamtando hanno presentato il loro nuovo album dal titolo Secteur 22, quartiere di Bobo Giulas, importante città del Burkina Faso, che ospita il centro culturale Aniché. Il CD raccoglie nove brani. I Tamtando nel realizzarlo si sono avvalsi della collaborazione di altri gruppi ed artisti valdostani, quali Morena Venoso, Sago e la Valle in Rima e il coro Canto Leggero diretto da Luigina Stevanin. Da segnalare anche l'intervento del percussionista del gruppo Elio e le storie tese, Christian Meyer. Parte del ricavato ottenuto dalla vendita del CD è stato destinato al progetto Emergency per Ebola. Il nuovo CD dei Tamtando è dedicato agli amici Gianluca Girotto e Zuma Nadia Rà, recentemente scomparsi.